Il saluto vi arriva da Riccardo Gentile e Beppe Bergomi Benvenuti allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, sesta giornata del campionato di Serie A Di fronte Inter e Catania Attenzione Spinesi, Giulio Cesar Occhio a Mascara, Rete, gol incredibile, Mascara Al sedicesimo, Mascara inventa questo gol Attenzione di Ibrahimovic, dall'altra parte per Figo, può essere un'opportunità Attenzione, Figo, ancora un cross, dentro di tenta Ibrahimovic Anzi, Stankovic trova il gol dell'1-1 Stankovic avanza verso la porta, il tocco per Ibrahimovic, prova a girarsi Ibrahimovic Non calcia, poi Figo, in qualche modo serve Solari, possibilità Solari sinistro Pantanelli È pronto sul punto di battuta Figo, può essere un'occasione Parte il suo cross, dentro Pantanelli con i punti Parte Figo, il suo cross, saltare Maicon, calcio di rigore Parte Cruz, la parata di Pantanelli Al ventiquattresimo, il calcio di rigore di Cruz, e ancora Pantanelli strepitoso Su Cordoba Trova il parco centrale, Solari, attenzione Ibrahimovic, prova a calciare, ancora Solari Il pallone che termina di poco a lato Occhio a questo calcio d'angolo, Pantanelli in qualche modo allontana Pallone buono, Stankovic Gol del 2-1 Doppietta per Stankovic Sta scadendo però il secondo minuto di recupero Arriva Materazzi a coprire Non c'è più tempo per Mazzolini Finisce così Inter 2, Catania 1 Uomo partita Inter, Stankovic Uomo partita Catania, Bagliotto Uomo partita